La classe dà per te, alzheimer. Non ave paura, asso qui, da dire a te, a tu aiutare. Dìm quello che puoi fare per te. A te preparare un foglio grande, con tutte le lettere dell'alfabeto. Dato te la parola, cercheremo a te. Con l'abbis, segna la lettera dopo la lettera quel tuo dì, e me ti ascolterò, e potrò aiutare in tutti i tuoi bisogni. Ecco, preva, a che c'è? A, T, V, O, I, B, E, N. A t'voi ben, a che c'è, tam feco muov, n'è ca me, a t'voi un sac ad ben, e mai amont, a t'laserò da per te. Musica Musica Musica